Jeb, dopo 1.5 minuti di stop, come sei pronto per questa nuova gara? Sono carico per questa nuova gara a Roma. E' stato un lungo wait, ma molto felice di essere tornando in una buona città, in una buona strada. Non posso aspettare. E come puoi dire la preparazione per questa gara in un simulatore, ma cosa puoi dire? Posso dire la stessa cosa che in tutte le gare. Abbiamo fatto molti giorni di lavoro al simulatore, tre o quattro giorni penso che l'ho fatto. Abbiamo lavorato con l'ingegneria, vedendo i riporti dell'anno scorso qua da Roma. Siamo carichi. Hai trovato i problemi che succedono nella prima gara? perché in mexico era una buona gara per te? La prima gara in Rial non avevamo problemi, solo la qualificazione non era buona e abbiamo iniziato da parte. Ma abbiamo una buona gara. Abbiamo una buona gara per la fronte e, spero, possiamo avere una buona gara per la gara. C'è qualcosa di speciale per te? dopo aver saputo che hai vinto in Roma una volta, per tornare qui? Non, niente speciale. C'è la stessa. C'è la stessa. E ho provato di vincere. E ho spero di vincere il meglio, e per l'anno scorso, per dire vini, vini, vinci. Sì, certo. Spero che vado dire questo. Ciao. Grazie. Grazie.